Sgominata un'organizzazione criminale armata affiliata alla famiglia di Cosa Nostra di San Cataldo, retta dal 45enne Maurizio Di Vita. Un'operazione denominata Calirun, coordinata dalla direzione distrettuale antimafia che ha visto l'esecuzione da parte della squadra mobile di Caltanissetta, in collaborazione anche con le squadre mobili di Milano, Bergamo, Mantova e Parma di 18 misure di custodia cautelare in carcere e 7 arresti ai domiciliari. Venti in tutto dunque le persone coinvolte nell'operazione accusate a vario titolo per i reati di associazione di stampo mafioso, aggravata dall'essere armata, essorsione consumata e tentata, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, associazione per delinquenza, finalizzata alla prostituzione minorile, sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione. Sono stati colpiti dalla misura di custodia cautelare il 45enne Maurizio Calogero Di Vita con il ruolo di reggente nella famiglia di Cosa Nostra di San Cataldo, il 49enne Antonio Domenico Cordaro, il 52enne Salvatore Cordaro, il 44enne Alfonso Renato Lipari, il 49enne Carmelo Gisabella, il 32enne Albanese Elis Deda, già in carcere, il 41enne Vincenzo Scalzo, il 43enne Cataldo Blantina, il 40enne Pietro Mulone, il 35enne Angelo Giumento, il 54enne Gioacchino Chite, il 46enne Vincenzo Ferrara, già in carcere, e il 34enne Romeno Adrian Daniel Pirvanescu. Sottoposti agli arresti domiciliari la trentenne Romena Diana Chiritoiu, il 27enne Marco Scalzo, il 49enne Salvatore Ferrara, il 39enne Salvatore Cagnina, il 40enne Giovanni Germano Paladino, inteso Giovanni Chiacchiera, il 42enne Fabio Ferrara, il 42enne Francesco Liuzza, quest'ultimi due già in carcere. Irreperibili due rumeni, Adrian Daniel Pirvanescu e Diana Chiritoiu. Indagini avviate grazie alla collaborazione con la giustizia di Alberto Ferrauto, che ha reso nota alle autorità giudiziaria la sue conoscenze in ordine agli appartenenti e alle attività gestite dalle famiglie mafiose nella provincia di Caltanissetta, arricchite poi dal contributo di altri collaboratori di giustizia, tra cui a Gesilao Mirisola, Ercole Iacona e Ciro Varo. Maurizio Di Vita, Antonio Domenico Cordaro e Salvatore Cordalo appartenevano già da tempo a Cosa Nostra, così come emerso nell'operazione Leopardo, scaturita a seguito delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Leonardo Messina. Ancora una volta si è dimostrato che chi entra a far parte di Cosa Nostra ne esce solo per morte o per collaborazione. Non è il caso di questi soggetti che, infatti, ritornati dopo la scarcerazione sul campo, hanno preso il posto di Salvatore Calì, che era stato assassinato nel 2008 e progressivamente hanno esercitato un controllo ferro su tutto il territorio, concretizzatosi non soltanto nella imposizione di estorsioni, ma anche in un fiorente traffico di stupefacenti ed estesosi addirittura in ipotesi di favoreggiamento della prostituzione anche minorile.